sette re-mail. Abbiamo atteso, ringraziamo la Square Enix per aver spedito in anticipo le copie preordinate sul loro sito, perché oggettivamente con tutti i vari problemi del Covid, le linee sono in trasmissione, le linee di spedizione sono intasate, quindi loro sono premuniti di anticipare delle spedizioni addirittura di un mese quasi, da quando hanno spedito e da quando è arrivata la prima mail dove accennavano queste spedizioni anticipate fino all'arrivo del gioco. Quindi ringraziamo la Square Enix per questa premura che mi ha richiesto solo di aspettare poi oggi a giocare e oltre al ringraziamento di cuore alla Square Enix vorrei anche dire brutte merde a tutti quelli che hanno, i giornalisti che si trova, si può trovare su internet, mi è capitato anche ieri di vederlo, che hanno già spoilerato parte del gioco. Potevate aspettare, c'è gente che addirittura oggi ancora non riesce a giocare, quindi, e che è il day one ovviamente. Quindi io ho tutti quei giornalisti, tutti quelli che hanno scritto, giornalisti che poi non sono veri e propri giornalisti, sono come me e molti che sparano notizie così, che senza né arte né parte, non ha senza uno studio, perché c'è anche quella parte di giornalisti ovviamente che ha studiato, che si è fatta il mazzo tanto, come aveva detto, per essere, per fare quel mestiere, quelli veri, che ovviamente in pochi parlano di giochi, si occupano di giochi sicuramente, ma si occupano di cose più importanti, beh, ci sono invece questi, diciamo, particolisti da strapazzo che hanno già incominciato a spoilerare, paragonando la vecchia versione alla nuova, la storia soprattutto, e spoilerando quindi parte della storia nuova, o comunque dei cambiamenti che ci sono stati ovviamente giustamente nella storia. Questo è un vero peccato, potevano risparmiarsi, ma secondo me, visto che, ripeto, la square è stata molto onesta e molto premurosa rispetto a chi aveva eseguito gli ordini, quindi potevano evitarlo, ma... Bando alle polemiche. Ora torneremo sul mondo di Final Fantasy VII. Ho anticipato un po' la live dalle orarie delle 14, l'ho anticipata circa di un quarto d'ora, perché vorrei prima fare un breve, brevissimo unboxing della First Class Edition, che è quella che avevo preordinato a novembre, e che mi era arrivata la settimana scorsa, e ho cercato, ho cercato e ho mantenuto tutti i ministri del sistema segreto, come aveva chiesto la square, ovviamente. Ehm... Allora, partiamo... Allora, innanzitutto, vabbè, l'emozione di ritornare, di anzi, di ritornare per la prima volta, perché non avevo mai giocato Final Fantasy VII, ho giocato all'inizio dell'8, perché... All'epoca non avevo la PlayStation 1, ho iniziato con... Quando uscì fra il Final Fantasy VII. L'emozione è tanta, per questo titolo che ha fatto la storia dei video di Japan RPG, ha fatto la storia perché? Perché è uscito a gennaio del 1997, 1997, in Giappone. Poi a settembre arrivò in America e alla fine, a novembre, arrivò anche in Italia. Il 17 novembre arrivò in Italia a Final Fantasy VII. Cosa colpì tantissimo nel Giappone, America e Europa di questo gioco, di questo Japan RPG, è che fu il primo a avere una grafica 3D poligonale. Fino ad allora, i precedenti Final Fantasy e i precedenti Japan RPG avevano tutti una grafica a bit, non a poligoni. Questo fu una vera e propria rivoluzione. Fu una ventata da aria fresca. All'epoca, per il ragazzino che vedeva la grafica di Final Fantasy VII, era rivoluzionaria. successivamente, l'otto già migliorò ancora, continuò a migliorare, ma la cosa, oggi giorno anche i miglioramenti grafici negli ultimi anni hanno un po' rallentato, però c'è stato, negli anni precedenti, negli anni 2000, fino agli anni 90, inizio agli anni 2000, almeno in questi ultimi anni siamo ritornati forse un attimo, abbiamo rallentato un attimo, però all'epoca, prima di Final Fantasy VII, l'idea di un Japan RPG o di un RPG comunque in 3D non c'era. Cioè è stato, è iniziata da lì, un po' la vera e propria rivoluzione della grafica del game. Quindi è veramente, è stato veramente una cosa, una rivoluzione per l'epoca. Allora, partiamo dall'unboxing che dicevo. Allora, potete vedere la scatola, si presenta così, dentro, trovate una metal cover con la il disegno di Sephiroth e dietro il logo della serie, al cui interno trovate invece un prodotto, davanti alla città di Mitra. Trovate poi, dentro la scatola, questo Art Book Edition, è una cosa che, nel quale potete ammirare, ho girato chi guarda su un po'. Non ve lo so di dire tutto, perché se no faccio spoiler, non vorrei mai evitare. Poi trovate dentro sempre il mini sound track, con i seguenti, la seguente tracklist e infine il gioco. La copertina molto classica, con il classico sfondo bianco di tutti i Final Fantasy. e all'interno, l'interno così strutturato con la retro copertina, che potrebbe essere cambiata e girata in base a come lo vedete, un disco di installazione dati, che non serve solo esclusivamente ad installare i dati, il disco del gioco. Questo è quello che ho trovato dentro la confezione del gioco, della Deluxe Edition. Dopo, in più, nella First Class Edition, c'era l'action figure di Claude e della Daytona. che ora mi attingo a mostrarvi, dentro la sua scatola, come si presenta. Ah, c'era anche questo portachiavi, con i personaggi del gioco. Questo è la scatola con cui si presenta la Claude e la Daytona dell'action figure. è veramente imponente, come action figure. E al suo interno, trovato. il gioco. Claude, con tutto il suo splendore, potete già così vedere i dettagli, e la Daytona. eccovi, Claude, potete ammirare i dettagli tecnici, le fiette, le fiette, le fiette, le fiette. dei capelli. E' veramente dettagliato, super dettagliato. E' l'imponenza della Daytona, del darle i dettagli. e' l'imponenza della Daytona. Detto questo, bando alle ciance. Vi ho mostrato tutto quello che bisognava mostrarvi. E possiamo passare al gioco. Perfetto, siamo puntualissimi. Inseriamo il gioco. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Imposta oppostamente la visuale, provando con R. Prendiamo standard. Scegli e mettere il gioco. Puoi cambiare anche in seguito il menu principale, la voce, il sistema, opzioni. Direi di tenere la standard, perchè la rampolata nella demo è abbastanza... e' fatta bene. E' veramente fatta bene. La storia è fatta bene. Ho fatto il sottotitolo. Grazie a tutti. 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 Arrenditi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, sì. Bersagli Con R3 puoi agganciare un nemico per prenderlo di mira e colpirlo più facilmente Premendo il nuovo R3 metti fine all'aggancio mentre con R3 o freccente destra e sinistra puoi cambiare il bersaglio Bersagli 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 C'è Il Bersagli I Bersagli Sì, non è vero. Ah, non c'è il caso. Ho questo posto scoperto. Ah, ok. Ok. Tifa, certo? Non è davvero il mio negozio, ma... siete tutti vicini? Cloud! Cloud! Stai ignorando me? Tifa e io... questo mi sembra che fosse più corto nella demo... vediamo già lui che aveva di tre spalle... Questi Zularats sembra di chiamarsi avalanche, signor... ... 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 Oh, il mio cuore è diventato come una macchina. Mi ha affermato. Più che mi ha affermato. Ho avuto un sogno di questo per anni anni. Ah, è vero, è arabo? Non è bene, non è scantato. Oh 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 You think if we fell in We'd sink right down to the body To the planet's core Now Shit And don't come back Okay Okay We're full It seems that in the devil The road aves magia I'm convinced of this thing The road I'm convinced Yeah Let's do this Let's do this Okay Okay Don't say anything I'm gonna cut Okay All right Let's see if little stamp really can bite the hand that feeds Hmm Go on Do the honors Prove to me you're the man Tifa says you are That you're one of us Never said I was I'm just here for the paycheck Then do the damn job What's wrong Hmm 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 I'm fine What about the timer You're calm Merc Pretty cocky ain't you You double crossing Heads up What in the hell Hey Hey How the hell do we fight this thing It's got reinforced armor plating But the internals can be overloaded Lightning magic Huh No other option huh Here we go Left to left We barely scratched the damn thing Didn't I tell you to use magic Thought you were full of shit Think whatever you want Just do it Hello Lightning magic You even know how to use materia Of course I know how to use materia What kind of stupid question is that Quit rushing me Time to burn So long Ok Ok Nooo Attacchi immobilizzanti Qui le vici sferano attacchi immobilizzanti che impediscono temporariamente di agire innescando una fase di stasi Gli attacchi immobilizzanti non possono essere preparati ma non si può ovviamente cambiare il personaggio Ok 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 ah ma più male però di più mamma mia non 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 can't see enough what the hell is that a barrier never seen this defense system before sad not you are the expert so what's your brilliant plan genius that was tried on nice try dumbass frontal assaults no good i'm gonna have to do this all by myself it's my time to shine or go down in flames shit it was just about to get you out wasn't expecting anything jack damn it this thing is tough it wouldn't be much of a weapon it wouldn't be much of a weapon if it went down easy maybe try long-range attacks instead you good attack it from the rear all right soldier boy show me what you got don't overdo it yeah yeah i'll do it yeah i'll do it we gonna let this thing keep pushing us around i don't think so you scared us up out of the air you scared us up out of the air who's worse suck on it enough with all the barracks bring it home Take it over. Dammit. Call me fire. Now, hit it hard and fast. Oh, you're in for it now. Just shoot. Could keep going if I healed up. Oh, you're in for it now. Oh, you're in for it now. Oh, you're in for it now. Abilità limite Subendo danni estremando il nemico rientri la barra limite Quando la barra al massimo puoi utilizzare le potenissime abilità limite che non consumano la barra TB Abilità, 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 abilità Abilità, 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 abilità Grazie a tutti 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 There goes another 20 minuti Concentrate Grazie a tutti 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 Ma un po' di scuola per mostrare! Penso che potresti aver fatto l'acqua! Ho seguito le informazioni per la lettera. Magari che ha triggato una reazione con Amaco? Noi speriamo che la città è ancora in un paese. Ma il plan è quello che importa, certo? Oh, 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 oh! Chiedi, questo deve aiutare un po' di più. Dopo tutto questo, potrebbe essere più potuto. Inoltre, andiamo a andare! Siamo in sector 8? Sì, questo dovrebbe essere proprio lì! Allora, vedi la strada. Tu hai fatto! Guardate per le live wire, sono in tutto! L'acqua in qui si fa! Non ci vediamo per arrivare in scuola. Mano, cosa è questo? Non ho riuscito niente così fuori. Oh, è io! Ho dovuto fare qualcosa su questo. E pronto. Ho sentito questo nel mio cuore! E' continuato a venire. Dobbiamo fuori da questo posto. Era la densità di Mako? Il esplosivo primario? Il agente dell'agente? Eh, potremmo riuscire la prima. Sì, andiamo a riuscire la prima. Puoi riuscire la base. La prossima volta dovrei prendere un piccolo piccolo. Oh, è successo, è successo, è successo. Quanto più profondo dobbiamo andare? Non più profondo! Non più profondo. Come si è messi a vita a proposito? Ma no. Ci ha rigenerato da un pinone. Non più profondo. Non più profondo. Non più profondo. Non più profondo di te, Marlene. Non più profondo di prendere un uomo. Ognuno ha le sue priorità. Chi ha fame? Chi... Marlene? Chi... Chi... Chi dorme la doccia? Chi... 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 no Intruttori non identifiche hanno detonato una bomba dentro del Reactor 1 Molte esplosioni hanno stato confermato, anche per il fattore In risposta, una disattività ha avuto in Sector 1 e 8 Struccure in l'area sono attraversa di clappi, rendendo il settore attraversa Perciò, tutti i residori di Sector 3 No, no modo Ma questo non potrebbe essere noi, potrebbe? Ma cosa se fosse? Ciò che è fatto è fatto Merck è vero Non è bello, ma non possiamo stoppare ora Questo era solo il primo Reactor E il planeto non sarà sicuro fino a che ottenere il resto Sì, sempre conosciamo che questo sarebbe diventato E questo è solo il principio Cosa significa? Cosa risposta 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 in fronte later then hey I'd like my money now you can have it once we're back at base I don't need to tell you what this is, right? Of course not It's healing material You can have it, first saving my life Just doing my job, nothing more Yeah, yeah, fact is, I'm lucky you were there Survival can be a matter of luck or skill You can't rely on luck Words to live by Yeah, well, thanks You do know how to use it, right? You do know what I was, right? Equipaggiamento e materie Ora puoi inserire le materie in armi e protezioni Prova subito ad inserire la materia energetica nella spada potens Avvia il tutorial, ce lo guardiamo Puoi inserire la materia in armi e protezioni Dalla voce, equipaggiamento e materie Premi X Prova avviamo ad inserire la materia nella spada potens Premi Triangolo per scegliere quale segnale Le elogi mostrate in alto sono quelli dell'arma Mentre quelli in basso corrispondono alla protezione Ok Seleziona uno vuoto e premi X Ok, ce l'abbiamo uno vuoto Scegli una materia dall'elenco per inserirla Seleziona la materia energetica e premi X Ha inserito la materia nell'arma In questo modo Potrai usare il battaglia, le magie e le abilità Ad esse associate E ottenere eventuali potenziamenti e parametri che fornisce Sperimenta con diverse combinazioni di materie nelle armi e nelle protezioni per scoprire le più efficaci Motori Quest'è quella che aveva Aveva Innis Quest'è invece aveva Energetica E' Aveva energia Ok Materia che permette di usare la magia di recupero Ah ok Perché prima infatti non avevamo Spada Potens Bandana Di bronzo Ok Ok, mi sono andato a mezzogliere. Oh, prima di farmi, qui c'è un po' qualcosa di più extra, per essere così bravo. E' stato veramente il rio di un'esercizio. Sì, vediamoci a te nel treno! Ok. C'è la tua trenza? Il trenza a Dover, e mi sono andato a mezzogliere! Ci sono alcuni treni per le scuole? Io invece devo controllare dappertutto perchè non voglio... comunque tagli veramente belli già ... ha dei fondali sto gioco che sono pazzeschi cioè considerando che le sono pedine praticamente sono dettagliate pure le pedine è un conto di rettaglio del personaggio principale o comunque dei compagni di squadra e così via ma... dei singoli passanti ... 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 sta andando da fatico lì, tranquillo, come fosse in realtà si acroce, sta facendo strada non sei vero, sei morto sono morto sono sono ti ucciso con la mia oh, non bisogna mi ricordare era il momento del nostro tempo insieme, ma era lì e ora ho una domanda il nostro amore è morto lentamente silenzemente doloroso non 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 di non non Grazie a tutti. 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 Not bad. Grazie a tutti. 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 a tutti. , a tutti. a tutti. , 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,... Oh man, i don't care what he got Ah, c'è un VTS4, calma. Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Marco Grazie a tutti 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 Protezione Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 E questa Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Quelli che sono Quelli che sono Grazie a tutti Grazie a tutti